Ciao ragazzi, in questo video, sempre a tema NFT, vi farò vedere come creare un server Discord per il vostro progetto NFT, in pochissimo tempo. Questo tutorial è adatto a tutti, anche se siete alle prime armi. Infatti esporrò tutto passo dopo passo, così che anche voi sappiate cosa inserire nel vostro NFT Discord server. Ma prima andate sotto questo video e lasciate like. Ora possiamo iniziare. Quello che dovete fare è scendere al massimo sulla lista dei server sulla sinistra, cliccare aggiungi server, creare personalizzato e poi saltare questa parte e passare oltre, per crearlo il più personalizzato possibile. Qui gli diamo il nome, in questo caso io lo chiamerò Alpi Collection NFT, questo perché lo sto creando per il mio progetto NFT. Poi aggiungete una foto, che sia la scritta del vostro progetto o proprio il logo della collezione. Successivamente cliccate su crea e andate avanti. E ora il server è già stato creato, con un canale testuale ed uno vocale di base. La prima cosa da fare è cliccare qui in alto ed entrare in impostazioni del server e successivamente in ruoli. Ora bisogna togliere qualsiasi tipo di permesso già preimpostato dal ruolo di Everyone. Questo va fatto perché quando creeremo il bot di autenticazione, lui si dovrà assicurare che tutto funzioni per il meglio. Quindi verificate di aver tolto ogni permesso a questo ruolo. Ok, io l'ho fatto manualmente, mi sono appena reso conto che c'era a zero permessi qui in alto, quindi volendo cliccate questo e fate sicuramente prima di quanto ho fatto io. Ora passiamo alla creazione dei ruoli. Questo lo chiameremo Verify, che sarà assegnato a chiunque cliccherà sul pulsante di Non sono un robot. Sto parlando di questo bot, che dovremo aggiungere in seguito. Il bot utilizzato da quasi tutti i server Discord che richiedono l'autenticazione. Il quale verificherà che la persona che sta accedendo è una persona vera e non un profilo bot. Ora decidiamo i colori. Di solito sul Verify si usa il verde. Poi io voglio anche che i membri di questo ruolo siano visualizzati in modo diverso e separato dagli utenti online. E poi salvo le modifiche. Un ruolo che può esserci o meno è quello dell'OG. Che se non sapete cosa sia, è semplicemente il ruolo che viene dato alle prime persone che entrano nel server. Spesso i progetti per creare hype assegnano questo ruolo sulle prime 500 o 1000 che entrano nel server. Così da invoiarli ad entrare. Diamo io un colore come il viola. Spuntiamo sempre questa casella e salviamo le modifiche. Ora il ruolo di team. Per ogni componente del team che ha creato gli NFT. Poi il ruolo di admin. Questo è importantissimo che ci sia in ogni server. Possiamo anche aggiungere il ruolo di whitelist. Per tutti coloro che erano pre-registrati al nostro progetto. Anche se la mia collezione non lo permetteva. Ma molte lo fanno quindi per questo tutorial io lo aggiungerò. Adesso passiamo ad un altro ruolo molto importante. Ovvero quello di bot. Che sarà assegnato appunto a tutti i bot che noi andremo ad aggiungere a questo server. Prima di andare avanti però in questo caso vi faccio vedere come si modifica un ruolo. Per chi ho sbagliato qui volevo aggiungere verified. Semplicemente entrate, cambiate il nome e salvate le modifiche. Adesso abbiamo tutti i ruoli che ci servono. E non so se l'ho già detto ma ovviamente i colori vanno a gusto personale. Questi sono quelli che ho scelto io ma voi potete utilizzare quelli che vi aggradano di più. Un altro passo fondamentale è quello della creazione dei canali. Partiamo da quelli testuali. Si creano con il pulsante più qui sopra. Scegliete il nome come ad esempio questo per il canale di benvenuto che è sempre presente nei server discord. Ora ne potrete creare quanti volete ma prima dovete settare delle impostazioni importanti. Andando in impostazioni del server. Poi in attiva community. Poi su iniziamo. E impostate la verifica della mail. Così che gli utenti debbano almeno avere la mail di discord verificata. In questo modo andremo ad evitare che dei profili bot spammino messaggi sul server. Volendo potete anche attivare questa funzione che rimuove tutti i contenuti espliciti. E se qualcuno dovesse inviarli questi saranno eliminati automaticamente. Ora andiamo avanti. Questi due io li lascio così come sono e vado avanti. Qui potete aggiungere un'altra funzione che eviterà problemi di spam di notifiche. Che potrebbero portare gli utenti ad abbandonare il server. Selezionate l'accettazione dei termini. Ed il gioco è fatto. Ora abbiamo un canale per le regole ed uno solo per i moderatori. Ora sempre da impostazioni andate su moderazione. Ed assicuratevi che si imposterà su basso o al massimo su medio. Che permetterà di entrare ai utenti registrati da almeno 5 minuti. Tornando sulla schermata principale. Dobbiamo andare a modificare i permessi del canale creato in precedenza. Quindi qui su modifica canale. Poi su permessi. E lasciamo che chiunque possa vedere questo canale. Ora andiamo sulle impostazioni del server. E scendiamo fino a schermata di benvenuto. Selezionate il canale e scrivete a cosa servirà questo canale. In questo caso greet the new members. Salutare i nuovi membri. E salviamo. Qui possiamo anche aggiungere una breve descrizione. Adesso andremo su verifica dell'iscrizione. E configureremo questa verifica. Torniamo indietro. Facciamo copia e incolla della descrizione. La mettiamo anche qui. Adesso attiviamo. Procediamo. E questa è sostanzialmente la parte in cui le persone quando entreranno nel server dovranno sostanzialmente accettare le nostre regole. Possiamo aggiungere queste di base che ci propone direttamente Discord. E volendo aggiungerne anche una nuova. Come ad esempio seguitemi su YouTube. Se non lo fate quindi seguitemi. Da adesso ogni persona che entrerà nel nostro server per prima cosa vedrà questa schermata con le regole. Ed ovviamente dovrà accettarla. Quando qualcuno entrerà nel nostro Discord sicuramente non vorrà vedere questo. Infatti l'interfaccia è molto brutta rispetto agli altri server. Quindi aggiungiamo delle emoji ai nomi dei server. Cercate delle emoji su internet. Fate copia e incolla. Andate sul canale. Modifica canale. Ed incollate. Già così è carino. Ma volendo lo possiamo rendere più accattivante separando l'emoji e la scritta con una linea. Che possiamo sempre cercare su internet. Facciamo copia. E in mezzo le incolliamo. Salviamo le modifiche. Vedete che già così è molto più carino. Ora per motivi tempistici io salterò questa parte. Ma andrò a fare questo lavoro per tutti gli altri canali. Eccomi tornato. Vedete ora quanto appare molto più bello? Sta iniziando a prendere forma. Aggiungiamo però un piccolo abbellimento alle categorie. Sempre sul sito di prima. Scegliamo qualche simbolo carino. Questo è opzionale. Ma vedete che a me piace molto di più. Ovviamente non tutti i canali fanno parte della stessa categoria. Quindi fate tasto destro in questa parte vuota. E create una nuova categoria per ogni vostra esigenza. Eccoci tornati. Come potete vedere adesso ho creato una nuova categoria. E ho riassignato i nomi. E ho spostato tutti i canali nell'apposita categoria. Se volete che solo qualcuno possa accedere ai canali sotto una categoria, basta fare tasto destro sopra essa, andare su modifica categoria, permessi e aggiungendo un ruolo decidendo quali permessi dargli. Come ad esempio verified. Lo può visualizzare, può creare invito. Salviamo le modifiche. Comunque voi potete scegliere tutte le impostazioni che vi aggradano di più. Adesso che abbiamo tutti i canali belli, carini e decorati, dobbiamo passare al nocciolo del server. I bot. Per primo ci serve il bot di verifica. Quello che ho visto usare più spesso in davvero quasi tutti i canali in cui sono entrato ed il migliore a mio parere è il carlbot. Per trovarlo andiamo su carl.gg che vi lascio comunque in descrizione come tutti gli altri siti che ho citato in questo video. Cliccate su login with discord, autorizzatelo e scegliete a quale server dargli accesso. Clicchiamo su continua e dovremmo dargli ovviamente tutti questi permessi. Autorizziamo. Effettuiamo la verifica di essere davvero delle persone e non dei bot. E ci troveremo in questa schermata. Clicchiamo su get started. Io non aggiungo altri prefissi e vado avanti. Qui vado su custom ed inserisco velocemente un messaggio di benvenuto nel server. Guardate che carino. Ora quando qualcuno entrerà il bot gli dirà Ehi, con il nome dell'utente, benvenuto nel server, il nome del server, project, rispetta la nostra community. Il tutto sarà inviato nel canale di benvenuto. Poi ci sono questi ruoli reaction che io non aggiungerò. Vado avanti e aggiungo un mod bot nel canale dei moderatori. Se anche a voi succede che in questo caso non riuscite a vedere quello che c'è sotto, basta cliccare F11 per mettere a tutto schermo. Selezionate il canale. In questo caso io l'avevo già selezionato. Lo rimettiamo. Moderator only. Andiamo avanti e settiamo l'automod. Io in questo caso lo voglio sul medium. Clicco finish e schippiamo questa parte in cui ci viene chiesto di aggiungere il piggy al server. Passiamo alla dashboard. Quello che dovete fare ora è andare su ruoli automatici e aggiungere il ruolo OG. Così d'ora in poi chiunque entrerà sul server discord avrà automaticamente quel ruolo. Poi una volta arrivato al limite da noi scelto, lo togliamo ed il bot non lo assegnerà più. Questa funzione è molto comoda. Immaginate di dover aggiungere il ruolo manualmente a mille persone. Sarebbe infattibile. Così invece non dovrete perdere tempo. Quello che faremo adesso è andare qui sotto in reaction roles. Create. Selezioniamo il canale dove verrà mostrato il messaggio. In questo caso in verified. E scriviamo il messaggio. Get verified by clicking the. Adesso andiamo sul sito di prima. Copiamo l'emoji del check mark. Lo incolliamo. Adesso aggiungiamo un emoji. In questo caso cerchiamo sempre il check mark. E sotto selezioniamo il tipo di ruolo che vogliamo dare. In questo caso il verified. Create. Adesso andando sul discord possiamo vedere che io non ho il ruolo. Clicco il check mark. Adesso ho il ruolo. Stessa cosa se lo dovessi togliere. Cliccassi di nuovo il check mark. Avrei di nuovo un ruolo. Ora per fare in modo che quando qualcuno entra nel server questo venga visto nel canale welcome. Andiamo sempre sul nostro server. Impostazione del server. E nel canale dei messaggi di sistema. Scegliamo il welcome. Adesso però inviamo un messaggio casuale di benvenuto. Quando qualcuno si unisce a questo server. Va tolto. Perché già Carlbot ne invia uno. Mi raccomando. Ogni volta che cambiate qualcosa. Poi salvate. Anche se magari non l'ho sempre ripetuto. Adesso abbiamo impostato il primo bot. Quindi gli andremo a dare il ruolo di bot. Adesso andremo ad aggiungere il secondo bot. Ovvero tweet shift. Vi consiglio di utilizzarlo perché twitter è molto usato in questo mondo. E con questo bot ogni tweet che farete sarà automaticamente ripostato nel vostro server discord. Adesso andate su dashboard. Selezionate il server. Andate su twitter feeds. E scegliete di linkare un account. Una volta effettuato l'accesso. Qui inserite il nome utente del vostro account di twitter. Includiamo in questo caso i retweet. E anche il link al tweet. Selezioniamo un canale che sarà appunto quello dei tweet. E startiamo. Da adesso ogni qualvolta doveste effettuare un tweet sul vostro account di twitter. Questo apparirà anche in questo canale. Il prossimo ed ultimo server che aggiungeremo sarà quello dei giveaway. Selezioniamo sempre il server. Confermiamo di non essere un bot. Adesso tornando sul discord. Prima mi ero scordato ma aggiungiamo il ruolo di bot a questo bot. E lo aggiungiamo anche ai giveaway. E per creare un giveaway basta andare nel canale apposito. In questo caso quello dei giveaway che però sarà accessibile solamente dal team. E digitare punto esclamativo gcreate. In questo caso scriverò giveaway. Ma ovviamente non sarà così perché sarà in un canale che sarà accessibile anche agli altri. Dobbiamo inserire la durata del giveaway in secondi. Per fini tempistici facciamo 10 secondi. Digitiamo il numero dei vincitori. In questo caso uno. E come giveaway prize facciamo un NFT. Adesso per partecipare al giveaway basterà andare nel canale scelto e cliccare queste emoji. Come potete vedere in questo caso il vincitore sono io perché l'unico partecipante ero io. Ragazzi il video termina qui. Lasciate like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!